Buonasera a tutti, siamo con Luca del castello di Petrelia Sottana che quest'oggi festeggia nella sua piazza di Petrelia Sottana un momento molto atteso e gioioso perché sono stati vincitori del premio. Migliore pizzeria di Sicilia, grazie per essere qui stasera, c'è stata tanta gente che ci ha deliziato nella loro presenza per questo premio vinto è stata una bellissima emozione per noi e per tutto il paese e vi aspettiamo giustamente nella nostra pizzeria per gustare le nostre prelibatezze. È stata ovviamente un'emozione grandissima però proprio in poche battute Luca com'è partito questo concorso? Come hai avuto l'idea di partecipare e di spingerti per giungere fino a questa vittoria? Siamo stati selezionati dall'investata giornalistica al Food Sicily per partecipare a questa iniziativa non ci abbiamo pensato due volte perché avendo tanti clienti che ci apprezzano non solo a Petrelia ma anche un po' in tutto il territorio regionale ci siamo detti proviamoci e il risultato ci ha dato conferma che bene o male abbiamo tanta gente che ci apprezza e questo ci onora e ci spinge a fare sempre di meglio. È una soddisfazione enorme, un traguardo che riempie di gioia, inorgoglisce e poi è anche un risultato che ti spingerà sicuramente a fare sempre di più. Ma una domanda, ti aspettavi comunque di poter vincere un piccolo pretendimento o c'è stato? No diciamo che chi partecipa a un evento anche se è un minimo, anche l'1% di speranza c'è però non ci aspettavamo di vincere comunque perché c'erano tante altre pizzerie anche diciamo abbastanza famose però siamo contenti del risultato. Ci sono stati tanti a sostenervi, il vostro paese in primis ma anche tutti i vostri clienti quindi una vittoria comunque da condividere insieme veramente. Grazie. Quale è il miglior premio come pizzeria ma anche come ristorante abbiamo fatto? Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto un premio da diciamo il sito di settore Guru come anche migliore ristorante del territorio e siamo orgogliosi di questo. Chi vogliamo ringraziare? Grazie all'amministrazione che ha reso possibile questa festa, a tutto il nostro staff che lavora ogni giorno con passione e dedizione, alla nostra grande famiglia e a tutti diciamo coloro che hanno reso questa festa possibile, gli sponsor, le forze dell'ordine e tutti. Tu poi ti chiediamo questo, dico tu sei giovanissimo e quando hai iniziato con questo lavoro? Io ho iniziato all'età di 16 anni, diciamo mi sono dilettato alle prime armi e da lì è nata la passione assieme a mio fratello nel fare la pizza e spingerci a trovare sempre nuove soluzioni e nuove tecniche per dare un impasto digeribile e diciamo rispettando quello che ci offre il territorio perché usiamo anche dei prodotti a chilometro zero della nostra masseria e questo dà il tocco in più alla pizza che potete gustare da noi. In ultimo e ti lasciamo stare, la tua pizza regina, qual è? Allora, diciamo che adesso abbiamo fatto una nuova pizza che ha dato molto scalpore, si chiama pizza Briatore, è una new entry che diciamo vi invitiamo a venire a provare perché abbiamo ricercato degli ingredienti molto ricercati proprio per fare una pizza chic ma allo stesso tempo sostenibile a differenza da chi dice che una pizza debba costruire. Per usare magari 30, 40, 60 euro noi abbiamo unito degli ingredienti preziosi ma dandolo alla portata di tutti quindi venite a provare perché è una vera chicca, non vi svelo gli ingredienti. Quelli restano a te. Ok grazie, vi salutiamo da Petrelia Sottana, da me è Luca è tutto, buona serata a tutti. Ciao!